sega umana, sega man, abbiamo sega man, sega man, un altro manga mai, è che lo conosco, non so qual è il tuo nome, presentati al nostro video, questo qua è l'ultimo stadio, ecco, farci una sega, farci una sega con la sega, Tommaso, Greta Dia Varga è la presentatrice di quest'oggi, diamocela, scusa, non stiamo dentro, mi massaggia qua, mi massaggia, eh non se lo lavo, che brava, lebrezza dell'autorotismo, ma riuscite a fare qualche acrobastia durante?